La Rete 10 Nodi è un'organizzazione tra i festival di autunno a Cagliari che raggruppa e mette insieme in rete esperienze differenti, in linguaggi differenti, in mondi differenti, accomunati però da un approccio culturale, artistico, anche direi sociale e politico simile. Le differenze sono un valore, non sono un ostacolo e servono ad arricchire un panorama culturale della città nelle sfaccettature molteplici che possono essere evidenziate da questa relazione. Mizzas quest'anno si occuperà di parallele convergenti, detta così sembra difficile ma in realtà non è così difficile. Le parallele convergenti sono il pensiero calcolante e il pensiero meditante, ovvero il pensiero che dice che tutto è già determinato, che la tecnica risolve tutto, che il mondo è così perché è così, che ogni cosa è già decisa dalla tecnica, dall'ineluttabilità e poi c'è il pensiero meditante che invece dice che sulle cose si deve riflettere, che le cose si possono fare e si possono cambiare. Noi vogliamo mettere insieme, provare a mettere insieme questi due pensieri, criticando il pensiero calcolante e facendolo diventare uno strumento del pensiero meditante. Cioè la tecnica deve tornare a essere uno strumento dell'uomo, l'economia deve tornare a essere uno strumento del sociale, della politica e così si potrà provare a cambiare l'economia e quindi anche a cambiare un po' il mondo.